Buongiorno Friuli e buon mercoledì 21 febbraio. Noi siamo pronti per la nostra rassegna stampa, siamo pronti per iniziare assieme anche la giornata di oggi come sempre con una bella immagine che ci mostra il nostro Friuli che si sta risvegliando. E oggi abbiamo scelto l'immagine che ci arriva da Cividale, dal Ponte del Diavolo di Cividale, dove in questo momento ci sono 4 gradi e 3 decimi circa. Dando un'occhiata alle altre temperature vediamo a Udine 8 decimi di grado positivo e poi si va sotto zero a Gorizia meno 1 grado e 1 decimo. Sulla costa invece a Trieste abbiamo 5 gradi e 2 decimi. Salendo in montagna vediamo sul Monte Lussari meno 9 gradi e 8 decimi. La giornata di oggi proseguirà all'insegna di un cielo in prevalenza nuvoloso con vento di bora moderato sostenuto sulla costa e forte a Trieste e in quota sulle Alpi Giulie. Nel Tarvisiano cielo coperto con probabile nevischio e temperature più basse rispetto al resto della regione. A Trieste dalla sera la bora sarà molto forte con raffiche oltre i 110 km orari. Dal meteo alla viabilità andiamo subito sulle pagine infotraffico di Autovie Venete e vediamo qual è la situazione in tempo reale. Al momento vediamo che fortunatamente non si segnalano code o rallentamenti a causa di incidenti o traffico. Quindi situazione al momento tranquilla. Tra l'altro ieri è stata una giornata importante per quanto riguarda proprio il traffico sulla 4 e anche sulle strade alternative. Alla 4 in caso di incidenti è stato siglato un protocollo in prefettura. Poi ne parleremo quando andremo sui quotidiani locali con la nostra rassegna stampa. Prima di andare però sui quotidiani un'ultima ora molto importante che ci arriva dalla Corea del Sud perché è arrivata un'altra medaglia nel medagliere azzurro. Una medaglia attesa da tantissimi anni quella di Sofia Goggia oro storico nella discesa. Sofia Goggia è la prima azzurra a vincere una gara olimpica in questa disciplina. E' la nona medaglia italiana alle Olimpiadi e vediamo appunto una foto sulla gazzetta, su gazzetta.it della discesista italiana con il tricolore. Una medaglia davvero molto importante, molto bella. Era da tantissimi anni, negli anni cinquanta, che l'Italia non vinceva una medaglia d'oro nella discesa libera. Poi andremo anche sui quotidiani sportivi nel corso di questo nostro Buongiorno Friuli. Vedremo anche le altre medaglie arrivate ieri, molto importante anche la medaglia della Vitozzi. Ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali ieri. Poi ne parleremo ancora quando andremo sui quotidiani sportivi. Adesso però iniziamo la nostra rassegna stampa dalle prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo a leggere assieme i titoli di apertura, le notizie principali, a cominciare dal Corriere della Sera. Ecco la prima pagina. Andiamo nel taglio centrale, dove vediamo il titolo di apertura a politica in primo piano. Berlusconi apre ai ribelli del Movimento 5 Stelle, scrive il Corriere. Intervista con il leader di Forza Italia, la replica di Bersani, Gentiloni è una sfumatura del renzismo. Andiamo a leggere le parole di Berlusconi. Accogliamo chi accetta il programma e poi aggiunge, prima del voto indicherò il premier. Andando nel taglio alto invece, vediamo quanto sta accadendo in Siria, dove la guerra continua. Ecco questa foto notizia. Il titolo ci dice, bombe assalti nella trincea del fronte kurdo. Il regime siriano di Bashar Assad lancia la grande operazione finale per la riconquista della roccaforte ribelle di Gouta. Missili e bombe, 400 mila civili in trappola. Da domenica circa 200 morti, compresi 60 bambini. Le organizzazioni umanitarie denunciano una seconda Aleppo. Reportage dal fronte settentrionale tra le milizie kurde siriane e IPG sulle colline teatro dello scontro fra kurdi, turchi e lealisti siliani. I convogli di Assad entrano ad Afrin. Il leader turco Erdogan ordina di fare fuoco. E vediamo questa notizia in primo piano anche su Repubblica. Ecco la prima pagina di Repubblica ed ecco nel taglio alto la foto che ci arriva appunto dalla Siria. Giorno di guerra Erdogan Assad, la Siria fa paura al mondo. A Gouta strage di civili, centinaia di morti tra cui molti bambini, scrive Repubblica. E poi c'è l'articolo di Paolo Garimberti che dice se ritorna il fantasma di Sarajevo. C'è davvero il rischio che Damasco diventi la Sarajevo del secolo 2000? La miccia di un conflitto che si allarga per cerchi concentrici fino a diventare globale? Non è più una domanda astratta o retorica ma un quesito di drammatico realismo, scrive Repubblica. E poi a centropagina invece la politica, voto larghe intese più lontane, i dubbi dei ministri PD su un'intesa con Forza Italia. Berlusconi dice non ci conviene fare l'accordo solo con Renzi, l'ex cavaliere vuole reclutare gli espulsi del Movimento 5 Stelle. E poi l'inchiesta sui rifiuti in Campania si dimette un altro manager. Andiamo a vedere anche la prima pagina del manifesto e vediamo che anche qui torniamo a parlare della guerra in Siria. Il manifesto titola fine guerra, mai la voragine del conflitto siriano si allarga. Questo era il manifesto, adesso andiamo velocemente anche sulle altre prime pagine, andiamo a vedere il titolo di apertura di Libero. Eccolo, via dalla pazza Italia, ondata di aziende che espatriano troppe tasse. Il caso Embraco Whirlpool che va in Slovacchia e lascia a casa 500 persone è solo la punta dell'iceberg. Centinaia di imprese hanno trasferito la produzione per sfuggire a burocrazia e balzelli. Il governo fa piangere, scrive Libero. Andiamo anche sulla prima pagina del giornale. Vediamo il titolo di apertura. Gentiloni si riprende gli 80 euro degli insegnanti. Fine dell'illusione. Altro che aumenti in busta paga c'è chi ha perso 300 euro. E in bolletta c'è un'altra tassa. Occulta. Ecco ancora il titolo di apertura del giornale. Che adesso chiudiamo per andare a vedere il Fatto Quotidiano. Anche in questo caso uno sguardo al titolo di apertura. Al centro, Gomorra, Tangenti e Monnezza. Le Coballe di Renzi e De Luca. Scrive il Fatto Quotidiano. Nuovi video di fanpage. Gli accordi per smaltire veleni in Campania. Il governatore grida al complotto ma la sua gestione con i 400 milioni stanziati dal leader Deme vede ancora 5 milioni di ecoballe ferme e la malavita che fa fare sotto i suoi occhi. Dal Fatto Quotidiano andiamo sulla stampa. Il titolo di apertura, Mattarella, mosse per evitare il voto bis. Non è scontato l'incarico al primo partito ma possibile alla coalizione che avrà più seggi. e c'è l'allarme dei servizi sul rischio di cyberattacchi su aziende vulnerabili e sulle versioni rossa e neofascista. Chiudiamo anche la prima pagina della stampa e andiamo adesso a vedere l'apertura della verità. Ultimo quotidiano nazionale in questa prima parte di rassegna a pochi giorni dal voto colpo di mano del PD sui servizi segreti. Convocato d'urgenza il Copasir Minniti d'intesa con Gentiloni vuol prorogare di un anno i capi degli 007. è l'ultima di una serie di manovre per legare le mani al prossimo governo. Chiudiamo anche la verità, chiudiamo la nostra parentesi dedicata ai quotidiani nazionali e andiamo adesso a vedere i titoli di apertura dei principali quotidiani locali, Messaggero Veneto, Piccolo e Gazzettino. Subito il Messaggero Veneto, il Messaggero Veneto di Udine. Il titolo di apertura ci porta al maxi concorso, alle prove per il maxi concorso per un posto pubblico che si sono svolte ieri in Regione. Il Friuli Venezia Giulia è la mecca del posto fisso in 4.700 da tutta Italia per diventare infermieri. Ieri l'esame, questo è il titolo e poi nelle primissime pagine vediamo l'articolo che ci riporta anche delle testimonianze di candidati appunto a questo posto fisso provenienti da tutta Italia in massa dal sud per il posto fisso a Udine-Pordenone preselezione per 466 contratti da infermiere. Sui banchi 4.731 candidati, soprattutto campani, laziali e siciliani. Ed ecco anche i numeri riassunti in questo box, vediamo 12.083 candidati ammessi alla preselezione per coprire 466 posti. E vediamo anche la provenienza di questi candidati, vediamo per quanto riguarda la sede di Udine, la sede degli esami a Udine, vediamo 434 candidati provenienti dalla provincia, 2.661 dalla Campania, 58 dall'estero e 1.492 dalla regione Lazio. Torniamo in prima pagina adesso, dicevamo prima della medaglia, la prima medaglia friulana, scrive il messaggero Veneto, dalla Sappadina Lisa Vittozzi, prima medaglia friulana dalla Sappadina Lisa, trascinato al bronzo, la staffetta del biathlon. E poi vediamo anche l'articolo di Antonio Simeoli, cecchina infallibile, mamma Nadia al Val Gioconda di Sappada, l'albergo di famiglia la guardava in tv con il cuore in gola. Poi ritorneremo su questa impresa quando andremo sulle pagine sportive dei quotidiani di oggi, adesso andiamo a vedere gli altri titoli, andiamo nel taglio alto, si parla della Banca Popolare, scusate, di Veneto Banca, dopo Banca Popolare di Vicenza, tocca a Veneto Banca, chiesti altri sequestri nel mirino, anche i beni di famiglia. La cronaca, andiamo di spalla, cronaca giudiziaria, l'impiegata dovrà restituire mezzo milione, Maxi a manco, all'Agenzia delle Dogane e la Corte dei Conti ha deciso che l'impiegata delle Dogane dovrà risarcire, questo a manco, anche se non si sa bene che fine, abbiano fatto i soldi che mancano in cassa. Vediamo ancora, per quanto riguarda l'economia, lavori da 630 milioni per la Rizzani Decker, che realizzerà la sede di Gazprom, ecco il titolo in prima pagina e poi vediamo nelle pagine interne tutto l'articolo e anche un'immagine del palazzone che sarà costruito dalla Decker, ecco il titolo commessa da 630 milioni di dollari a Minsk in Bielorussia. Ecco qua il rendering della sede. della Gazprom a Minsk. Ancora, sempre per quanto riguarda la cronaca, un'altra notizia richiamata in prima pagina, noi andiamo subito sulle pagine interne, sparge cocaina sulla volante, arrestato, è successo a Udine, nei guai, anche per resistenza e guida in stato di ebrezza, un udinese di 48 anni, fermato dalla polizia in piazzale Cavedalis. E qui vediamo anche alcune foto del momento dell'arresto e della cocaina che è stata sparsa sull'auto della volante. Dicevamo prima della A4 della giornata di ieri che ha visto la sigla di un protocollo in prefettura per cercare di gestire meglio la situazione in caso di incidenti per quanto riguarda il traffico che si riversa sulla viabilità alternativa alla A4. Ecco la doppia pagina. Quando la A4 si blocca a passo Duomo dietro i tir, viaggio da incubo nei paesi. Un incidente in autostrada e gli automezzi vengono deviati sulla viabilità ordinaria. Ecco il viaggio da Porpetto a San Giorgio. Un'ora e mezza per fare 25 chilometri. e ci sono le richieste dei cinque sindaci assediati dal traffico dopo gli scontri. Sono i sindaci dei comuni di Lattisana, Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turniano, San Giorgio di Nogaro e Porpetto. Ieri è stato siglato un nuovo piano per presidiare tutti i punti critici sottoscritto un protocollo per gestire l'emergenza coinvolti Prefettura, Autovie, FWG, Strade, UTI e Forze dell'Ordine. Una gestione coordinata degli itinerari alternativi alla viabilità in autostrada a seguito della sua chiusura per lavori o per incidenti. A mettere nero su bianco le procedure da seguire un protocollo operativo sottoscritto ieri in Prefettura, a Udine, dal prefetto Zappalorto, dall'assessore regionale Panontin, dal presidente di Autovie Venete Castagna e dal presidente di FWG Strade Damiani, ma anche dai presidenti delle UTI Riviera Bassa Friulana e Medio Friuli. Si tratta di un protocollo che va ad aggiungersi a quelli già sottoscritti nell'aprile del 2017 incentrati sulla sicurezza della circolazione durante i lavori per la realizzazione della terza corsia. Il protocollo serve appunto a intervenire nel modo corretto proprio per gestire il traffico sulla viabilità alternativa sulle strade ordinarie quando ci sono incidenti sulla A4. Torniamo sulla prima pagina del Messaggero Veneto di Udine adesso per andare a vedere qualche altra notizia richiamata in prima. Per quanto riguarda il tema elezioni c'è un caso che è quello che vede protagonista il comune di Resia che dice perché siamo finiti nel collegio di Gorizia? Resia e la sua comunità cosa hanno in comune con Gorizia? Niente rispondono nel paese dei danzatori e dei violini non comprendiamo perché siamo finiti nel collegio elettorale di Gorizia afferma il sindaco Sergio Chinese anche se il paese, ci dice il messaggero nelle pagine interne, è un po' spaccato dal momento che la minoranza slovena tutto sommato appoggia questa scelta è scelta questa decisione. Nel taglio basso qualche curiosità era di Udine la segretaria di Togliatti Anita Gagliussi troviamo tutto l'articolo nelle pagine della Cultura e poi c'è l'appello di Italia Nostra per tutelare gli alberi monumentali della nostra regione a San Dadiele rimane incustodita la Sistina del Friuli anche in questo caso l'articolo nelle pagine dedicate alla Cultura andiamo invece sulla prima pagina del fascicolo di Udine in questo caso si parla invece della puntualità degli autobus mobilità urbana, bus promossi ma resta il nodo della puntualità e quanto emerge dalle interviste agli utenti della SAF in servizio 400 mezzi guidati da 600 autisti dalla prima pagina del messaggero Veneto di Udine il fascicolo interno andiamo sulla prima pagina del fascicolo di Pordenone andiamo a vedere la notizia che apre il fascicolo locale leggiamo assieme il titolo la burocrazia congela le sale espositive fatale il passaggio dalla provincia ora abolita alla regione associazioni spiazzate servono lavori per la sicurezza e così le mostre sono congelate le sale espositive della provincia transitate nel patrimonio della regione con la chiusura dell'ente intermedio sono temporaneamente disponibili per le associazioni del territorio niente mostre negli spazi di Corso Garibaldi perché la gestione di questo sito culturale è divenuta più complicata sotto il profilo burocratico questa è la notizia in primo piano oggi sul messaggero Veneto di Pordenone chiudiamo adesso anche questo giornale adesso ci spostiamo sì nell'isontino nel Monfalconese a Trieste con la prima pagina del piccolo il piccolo di Trieste in apertura abbiamo la politica regionali veto della Lega su Riccardi intanto c'è un'intesa Salvini Berlusconi per quanto riguarda il candidato in Friuli Venezia Giulia sarà scelto da Forza Italia ma va cambiato il candidato ecco perché veto della Lega su Riccardi nelle pagine interne del piccolo abbiamo tutto l'articolo che ci fa appunto il punto della situazione andiamo a prenderlo nell'edizione di Trieste del piccolo eccola qua e vediamo subito nelle prime pagine tutti gli articoli dedicati a questa campagna elettorale a questa attesa per il voto alle politiche ma anche alle amministrative la Lega cede la leadership a Forza Italia accordo Salvini Berlusconi saranno i forzisti a indicare il nome del candidato alla presidenza ma restano dubbi su Riccardi leggiamo le prime righe dell'articolo il Friuli Venezia Giulia a Forza Italia dopo un tira e molla che dura dall'autunno e che ha attraversato tutta la snervante discussione sulla costruzione delle liste per le elezioni politiche la notizia arriva in corrispondenza della visita di Matteo Salvini in regione il tour del segretario del Carroccio ha fatto il paio con il diffondersi di voci sull'avvenuto accordo tra lui e Silvio Berlusconi in merito alla leadership della coalizione che il 29 aprile cercherà la conquista dell'estremo lembo di nord-est un'intesa che reggerà ovviamente solo se l'alleanza supererà indenne le conseguenze del voto del 4 marzo che potrebbe significare tanto una vittoria del centrodestra quanto larghe intese con esiti potenzialmente deflagranti a Roma come in Friuli Venezia Giulia questi gli ultimi rumors per quanto riguarda le candidature del centrodestra in regione il piccolo oggi dedica anche un'altra doppia pagina a questa attesa per il voto si sofferma in particolare sulle schede elettorali Rosatellum al debutto tra schede Lenzuolo e Tranelli nell'urna per il senato l'elettore troverà stampati i simboli di 20 partiti Lorenzina Rosato dice rischio errori la replica no tutto è trasparente e qui vediamo un facsimile di scheda per il senato andiamo a vedere anche l'articolo che troviamo nella pagina accanto il dilemma di preti e suore orfani della balena bianca a più di 20 anni dalla scomparsa della DC sacerdoti e fedeli restano senza rotta la curia triestina invita a scegliere chi difende i veri valori ma chi lo fa davvero ci si chiede è questa è l'altra pagina dedicata alla politica sul piccolo di oggi chiudiamo queste pagine rimaniamo però su questo quotidiano e andiamo nell'Isontino e nel Monfalconese perché ci sono alcune notizie importanti siamo sulla prima pagina del piccolo di Monfalcone e leggiamo la carica dei comuni nel maxiprocesso amianto Monfalcone guida Fogliano Re di Puglia San Pier Turviaco e San Canziano nella richiesta di costituzione di parte civile ne avevamo parlato anche noi nei giorni scorsi con un'intervista al sindaco Cisin intanto domani mentre sta per partire questo quarto processo amianto la Cassazione si esprimerà sulla sentenza del primo processo amianto noi speriamo che venga confermata la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha mantenuto fermo il pronunciamento del Tribunale di Gorizia ha detto l'avvocato Anna Maria Marin legale di parte civile dell'associazione esposti amianto era il 15 ottobre 2013 quando in un'aula gremita di gente il giudice Trotta aveva pronunciato la sentenza l'altura è durata 31 minuti e le motivazioni della sentenza erano contenute in un faldone da 17.000 pagine rimaniamo sul piccolo e andiamo a leggere adesso un'altra notizia che ci arriva da Grado dove una persona è morta soffocata dal fumo che aveva acceso in un locale abbandonato per trovare riparo dal freddo ecco qua accende un fuoco nell'ex bar e muore tragedia tra Valle Goppion e Pineta vittima a un senza casa monfalconese di 62 anni con precedenti penali il fumo l'ha soffocato l'uomo era sparito dalla circolazione aveva trovato rifugio nel locale ormai abbandonato da anni fatale la necessità di scaldarsi e a proposito di freddo forse avete intravisto prima sulla prima pagina del piccolo questa notizia questa foto centrale che ci dice che arriva il freddo siberiano e bora a 120 all'ora queste le previsioni del tempo un vortice gelato dalla tundra solo cugino del nostro vento della bora questo è il il nome del il nome di questo vento gelato è il Burian chiudiamo anche il piccolo e per chiudere questa prima parte di rassegna stampa andiamo sul gazzettino e vediamo la prima pagina con i temi della politica nazionale Berlusconi apre agli ex del movimento 5 stelle e poi anche qui a centro pagina la foto notizia delle medaglie alle olimpiadi di una foto che va aggiornata con l'oro di Sofia Goggia vinto questa mattina l'alba Vittozzi vittoria contesa da Friuli e Veneto per la medaglia appunto arrivata dalla Sappadina al bronzo all'atleta di Sappada ecco qua ancora la foto ma andiamo adesso sulla prima pagina del fascicolo del Friuli così leggiamo assieme i titoli di apertura Udine addio provincia il 21 aprile la giunta regionale formalizza la data di fine mandato dell'amministrazione elettiva nominati i due liquidatori commissario del dal 22 sarà il ragioniere generale Paolo Viola la vice Anna Maria Pecile tre adempimenti per la soppressione ecco il titolo di apertura del gazzettino addio provincia l'ultima ancora a restare a resistere scusate alla scure della riforma delle autonomie locali l'attuale amministrazione elettiva guidata da Pietro Fontanini cesserà di esistere il 21 aprile prossimo esattamente fra due mesi l'indomani si presenteranno a Palazzo Belgrado il commissario liquidatore e la sua vice nominati dalla regione ancora a centropagina anche sul gazzettino la foto dei candidati al concorso per infermieri infermieri 12.000 all'assalto per 466 posti è il numero dei candidati che resteranno in corsa per gli iscritti dopo il test eseguito ieri di spalla condannate a risarcire le dogane anche in questo caso abbiamo visto la notizia prima sul messaggero veneto profughi polemiche sul nuovo bando dopo la pubblicazione del nuovo bando per il centro di accoglienza dei profughi all'ex cavarzerani di Udine si scatena la bufera polemica tutta di matrice politica su un tema caldissimo tra i nodi sollevati dal centro-destra soprattutto l'aumento del costo giornaliero pro capite previsto a base d'asta per il primo lotto anche il centro-sinistra chiede un dimezzamento dei migranti in città e poi vediamo sempre nel taglio centrale del gazzettino del Friuli stadio friulano pronto a Mosca e c'è una nuova commessa milionaria a Minsk per il gruppo Rizzani De Ecker nuova maxi commessa ne abbiamo provato prima intanto ne abbiamo parlato prima intanto un altro importante cantiere quello del complesso VTB Arena Park che in aprile vedrà il taglio del nastro dello stadio centrale della squadra della Dinamo di Mosca sempre per quanto riguarda lavori pubblici ex upim lavori finiti entro un anno e mezzo dice Claudio De Ecker per quanto riguarda il cantiere in centro città andiamo nel taglio alto adesso velocemente qualche altro titolo Trieste Friulana Serracchiani e Tondo duellano su Twitter e Illi sorride autostrada piano operativo per le emergenze in campo anche la protezione civile andiamo a riprendere la prima pagina del gazzettino del Friuli che è fuggita dal nostro touch eccola qua eravamo nel taglio alto stavamo parlando del piano operativo per le emergenze in A4 e poi fondi statali quasi 36 milioni in Friuli Aquileia Superstar 36 milioni per interventi sui beni culturali della nostra regione facciamo un salto a piedi pagina adesso andiamo a vedere le notizie che troviamo nel taglio basso per quanto riguarda gli spettacoli James Senese e i Napoli centrale al Palamostre questa la notizia richiamata in prima pagina dal gazzettino e poi per quanto riguarda lo sport udinese scuffette spera nel rientro e adesso siamo pronti per passare alle notizie sportive prima però come sempre ci fermiamo per un attimo di pubblicità e poi saremo di nuovo assieme per proseguire questo nostro buongiorno Friuli con i quotidiani sportivi con gli aggiornamenti sul traffico il meteo insomma tante cose ancora di cui parlare in questa nostra mattinata tra poco e poi Grazie.